Un programma offerto da Ceramica Pianuova Salve, i libri che voglio presentarvi quest'oggi sono Arte nella città di Antonella Greco e Marcello Fabri per Boringhieri Editore e Arte architettura di Lorenzo Dall'Olio per la testa immagine I libri sono ambedue interessanti, l'uno perché si occupa dell'arte nella città e l'altro perché si occupa dei rapporti tra l'arte e l'architettura L'arte nella città parte dal presupposto che un tempo le opere d'arte servivano per qualificare delle zone che erano già emergenti nella città e in un certo senso negli ultimi decenni con l'esplosione delle città le parti emergenti della città sono venute a mancare per cui si è persa anche questa tradizione di mettere oggetti d'arte in punti significativi e anzi succede qualcosa di molto diverso e il libro racconta un po' che cosa è successo in questo escursus è molto interessante il modo in cui mette in rilievo il bisogno di arte comunque che c'è nel cittadino di interrompere un po' la quotidianità della vita soprattutto se la città non risponde più a delle esigenze di tipo estetico uno degli esempi che viene riportato nel libro ma che è già un aspetto molto evoluto di questa tematica è la progettazione della città di Gibellina dopo il terremoto del Belice siamo negli anni intorno al 68 e è anche l'anno in cui esce il primo numero di controspazio diretto dall'architetto portoghesi che non a caso esce con una pubblicazione su Luis Can ecco in questa occasione già c'è una sorta di progettazione contemporanea di arte e architettura c'è Pietro Consagra che parla della città frontale insomma tanti aspetti che sono importanti poi per tutta l'evoluzione della presenza di arte nella città e diciamo nel dopoguerra ancora a seguito dell'esplosione dell'urbanizzazione delle città ci sono delle teorie urbanistiche che parlano un po' di austerità della realizzazione dei quartieri per seguire un modello funzionalista anche in questo caso è sempre l'architetto portoghesi che parla di qualità dell'immagine urbana ritroviamo un po' come dire gli effetti di questo dualismo in cui da una parte c'è Campos Benuti dall'altra parte c'è Paolo Portoghesi che daranno delle esperienze, daranno dei risultati interessanti insieme devo dire a qualche manifestazione anche Kic ancora in seguito a questo progresso tra il rapporto tra funzione e qualità andando ancora avanti una cosa importante succede ancora nell'architettura nel rapporto con l'arte che è la strada nuovissima nel 1980 sempre voluta da Paolo Portoghesi che è un esempio di interventi di vari architetti nella strada delle corderie che ha dato come effetti una grande polemica dell'architettura però insomma in pochi si sono accorti che poi si stava arrivando ad una sorta di evento ricorrente di racconto nella città e questo è stato un po' il seguito con cui si sono dovuti confrontare tutti quegli architetti che si sono un po' occupati della città della forma dell'immaginario e in ultimo ci si domanda in effetti se come a Gibellina l'arte può effettivamente qualificare gli spazi della città che di loro non hanno una qualità urbana come dicevo l'altro libro invece si occupa proprio di arte e architettura cioè di come gli architetti sono stati attenti all'arte e viceversa ci sono degli esempi interessanti più che altro sono dei parallelismi si vede come Arata Isozaki è stato attento all'opera di Sol Luit e anche molti altri ad esempio si mette a confronto il Gran Verde di Duchamp con la fondazione Cartier di Jean Nouvel oppure ancora Heisman con Moore ecco queste sono manifestazioni che fanno capire qual è l'interesse dell'architetto per l'arte fino poi ad arrivare agli aspetti cinematografici in cui c'è una esplosione fantastica in cui la città stessa diventa un oggetto d'arte super illuminata super concentrata da effetti anche luminosi che poi diventano espressione di un'arte benvenuti puntata speciale di Work in Progress questa settimana parleremo di arte, materia e città proprio come l'architetto Claudio Presta poc'anzi ha introdotto la tematica di questa trasmissione la faremo con gli ospiti che sono venuti a trovarci diamo il benvenuto al presidente di una grande azienda di Roma ceramica a Pianuova il signor Mario Rizzo, benvenuto salve è con noi anche il direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Roma Gerardo Lorusso salve salve come dicevamo ha aperto per noi la trasmissione l'architetto Claudio Presta, benvenuto salve e ci è venuto a trovare un architetto di fama internazionale diamo il benvenuto al professor Paolo Portoghesi salve e proprio con lei professore vorrei aprire chiedendole se secondo lei esiste davvero questa relazione tra arte, materia e architettura sicuramente la materia è necessaria sia per l'arte che per l'architettura e diciamo almeno nella tradizione ogni città aveva le sue materie e quindi il linguaggio di una città è fortemente connesso con le materie che di solito si reperivano in luoghi vicini ecco oggi siamo nel mondo della globalizzazione forse queste regole non valgono più ma certo abbandonando questo legame tra materia, arte e città c'è il rischio di perdere l'identità della città che è un elemento fondamentale per i suoi abitanti quindi secondo lei a cosa andremo incontro? tutto questo si perderà sempre di più? è difficile dire io credo che si potrebbe mantenere questa identità perché se noi arrivassimo a una perdita totale dell'identità non ci sarebbe più ragione di muoversi a un certo punto l'uomo diventerebbe un animale sedentario mentre direi che i sintomi della civiltà attuale sono invece i sintomi di un continuo movimento di un desiderio di conoscere e di mantenere la differenza per esempio nel campo dell'ecologia ci battiamo per mantenere e conservare la differenza la differenza biologica quando scompare una specie animale per esempio sentiamo che l'umanità stessa ne è impoverita, a maggior ragione dovremmo preoccuparci di impoverirci dell'identità delle nostre città, dovremmo preoccuparci di questa omologazione come la chiamava Pasolini che tende a trasformare tutto in una stessa omogenea sorta di melma, di qualcosa di cui non si riconosce più la differenza, quindi io penso che il futuro dovrà combattere perché sia il processo della globalizzazione innanzitutto non sia solo economico ma costituisca un motivo di scambio tra la civiltà e nello stesso tempo che ci sia una dialettica tra questa continua ricchezza di relazioni e la conservazione dell'identità. Ecco, nell'architettura come nell'arte una grande relazione è stata sempre quella dell'imitazione della natura come anche dell'interpretazione della natura, ma secondo lei è meglio la natura o l'imitazione della natura? Beh, questo non è un problema, nel senso che l'uomo ricrea la natura imitandola o semplicemente ispirandosi alle sue strutture, alle sue forme. Ovidio diceva per esempio che l'arte imita, che la natura imita l'arte, cioè rovesciava questo rapporto tradizionale e ha un senso anche questo, cioè noi spesso ritroviamo nella natura delle caratteristiche dell'arte, ma questo si deve al fatto che nel nostro cervello si è creata una sensibilità, ha riordinato la natura secondo la sensibilità umana, quindi diciamo certamente la natura è alla base dell'arte, perché qualunque arte nasce dal rapporto dell'uomo con la natura. L'architettura, io ho scritto un libro proprio su questo tema, cioè gli archetipi dell'architettura sono tutti archetipi che derivano dalla natura, sono interpretazioni del funzionamento della natura, perché anche la natura ha un suo funzionamento. Ecco, in merito a questo, dottor Lorusso, come mai l'uomo ama tanto contornarsi di arte? Penso che così come la materia, l'aspetto fisico della realtà che ci circonda, diciamo apparentemente è un bisogno primordiale e prioritario, l'arte necessariamente risponde all'esigenza mentale, diciamo, in qualche modo che accompagna l'evoluzione dell'uomo. Penso che quando i nostri progenitori per primi hanno realizzato un disegnino su una parete, primo graffite per, in questo senso, o imitare o clonare, accompagnare le bove che stavano fuori dalla galera, il primo disegnino è stato inevitabilmente il momento in cui si è reso conto che quella che noi chiamiamo arte, cioè la rappresentazione di un pensiero, l'energia pensante, trasformata in qualche cosa, di comunicativo, sia stata un momento talmente straordinaria la più grande scoperta forse che c'è mai stata nell'umanità, per cui l'arte, come si fa a pensare l'umanità senza il bisogno dell'arte? Non la perderemo mai quindi, non ci sarà un futuro... Ma accompagna l'evoluzione né bene né male dell'essere umano. Ecco, invece Architetto Presta ha l'architettura che, diciamo, è un'arte pratica, più pratica, che nasce un po' per difendere l'uomo dalla natura e poi, invece, si evolve e diventa anche il modo per esprimere i luoghi e l'identità umana. Continua ad essere così o comincia a essere stravolto questo concetto? Beh, l'architettura possiamo intenderla come arte pratica fino a un certo momento della storia, quando serviva per difendersi, appunto, come ha detto lei, dagli agenti atmosferici, dalle belve, dalla situazione di questo tipo. Però, diciamo, una volta soddisfatto il bisogno, si cerca poi di soddisfare i desideri. Quindi, in questo senso, l'architettura si pone anche, come anche nell'arte, come fonte indispensabile, ma non solo mentale, devo dire, in qualche modo anche chimica, nel senso che se noi assistiamo a una partita, a una competizione sportiva, come dire, questo ci produce una scarica di adrenalina, se siamo coinvolti naturalmente, e così l'arte in qualche modo ci dà, oltre che naturalmente a livello mentale, perché poi c'è sempre un trasferimento, è sempre la mente che produce queste sostanze, ci dà, non so, potrei dire delle endorfine, ma forse questo non è il termine, diciamo, chimico esatto. Quindi, ritengo che ci sia proprio un bisogno fisico, e laddove l'architettura ha mancato questo obiettivo, poi si sono create sempre delle, come dire, dei dissesti di tipo anche sociale. E quindi l'architettura è un bisogno, associata naturalmente proprio all'arte, anche come oggetto estraniato dal contesto, cioè si pone proprio come una necessità che deve perseguire, insomma, quantomeno ha una sua qualità che deve essere soddisfatta. Invece con il presidente Mario Rizzo, che noi adesso vorremmo un po' conoscere meglio nella sua realtà, abbiamo parlato di arte, abbiamo parlato di architettura, la materia naturalmente è fondamentale per entrambe le cose, e lei che comunica al pubblico anche questa materia, che oggi poi trova spazio soprattutto con le nuove tecnologie, quindi attraverso la ricerca la materia si perfeziona sempre di più, ha iniziato ad intraprendere questo tipo di carriera, di lavoro, per una vocazione, se vogliamo. Sì, diciamo una certa predisposizione. Abbiamo il problema soltanto, diciamo, di reperire tutto questo che praticamente è la materia, tutto quello che sono le materie possibili e immaginabili da poter poi rivestire quello che sono i progetti, quello che sono praticamente le idee che mettono in pratica gli architetti. Proprio per questo, visto che l'architetto portoghesi, il professore, parlava di globalizzazione, siamo impegnati già da anni praticamente in una continua ricerca di materiali nuovi, materiali che erano prerogativa di alcuni paesi, a noi forse sconosciuti, ma sconosciuti come materia, come granometria, come superficie, come colori, e li abbiamo cominciati a avere in archivio. Li proponiamo quando ce n'è l'esigenza. Abbiamo cominciato a richiedere praticamente ai nostri fornitori di avere nel legno, per esempio, non più il classico perché tradizionale, ma fare delle invenzioni, insomma, invenzioni che sono, che ne so, basta pensare al rovere che vira come colore della miniatura soltanto mettendolo in un forno e portandolo a 240 gradi di temperatura, perciò avere praticamente colori, avere praticamente sfumature che sarebbero impossibili da ottenere con tinteggiature e con altre cose, tutte cose che stanno in qualche modo prendendo sempre più piede, perché c'è meno, forse meno lavoro, ma più ricercatezza nel lavoro stesso. Quindi noi, commercianti, vediamo che c'è praticamente meno volume di materiale, ma sicuramente una voglia, diciamo, di avere prodotto esclusivo e noi non siamo altro che il braccio forse armato dei presenti architetti che ci chiedono continuamente, ci sollecitano perché dobbiamo essere anche un'azienda innovativa e che propone materia, colori praticamente diversi ogni qualvolta il progetto lo richiede. Bene, continueremo a parlare di arte, di architettura, di materia applicata alle nostre città subito dopo una breve pausa pubblicitaria, perciò non ve ne andate, restate con noi, a tra poco. Siamo di nuovo in studio con Work in Progress, puntata speciale questa in cui si parla di arte, di architettura, di materia applicata alle nostre città. Lo facciamo con il presidente di una grande azienda di Roma, Ceramiche Appianuova, il signor Mario Rizzo, con un architetto di fama internazionale, il professor Paolo Portoghesi, con l'architetto Claudio Presta e con il direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Roma, Gerardo Lorusso. Professor Portoghesi, l'architettura che trae ispirazione dall'arte contemporanea e dall'investigazione, diciamo, analitica che opera sulle città. Ma in che misura, a suo parere, riesce a trarre questa ispirazione? Diciamo, l'architettura moderna è nata di pari passo con la rivoluzione nel campo della pittura e della scultura. Poi ha seguito anche strade proprie che l'hanno differenziata. Oggi, direi, c'è un nuovo incontro in cui però l'architettura sembra voler rubare proprio spazio alle arti visive, perché l'architetto è preoccupato specialmente di Archistar, questi grandi architetti internazionali che concentrano nelle loro mani gran parte del lavoro più significativo di ciò che si costruisce nel mondo. Sono così convinti di essere degli artisti, da voler realizzare delle opere in cui, oltre all'aspetto architettonico, c'è anche un aspetto artistico generale. Se prendiamo il Museo Guggenheim di Gheri, per esempio, è una scultura, è un'architettura nello stesso tempo, quindi c'è questa forma di sconfinamento reciproco che è una delle caratteristiche dell'epoca contemporanea. Ma io credo che architettura e arti visive sono destinate a scorrere parallele come fiumi, influenzandosi reciprocamente in certe epoche di meno, in certe epoche di più. Oggi secondo me l'architettura ha un problema grandissimo da risolvere, che è quello di diminuire i consumi energetici e di ridurre l'inquinamento, altrimenti diventa complice dell'effetto Serra che come sappiamo tra 50 anni ci farà vedere Venezia sotto l'acqua di 7 metri. Io credo che questo sia un obiettivo che in un certo senso fa capire che l'architettura non può limitarsi a ricercare la bellezza o a ricercare la sintonia con l'arte, deve essere consapevole del suo ruolo sociale, della sua responsabilità. Ma lei crede che questo stia avvenendo, questa consapevolezza? Certamente, io mi batto da anni per l'architettura della responsabilità, adesso insegno Geoarchitettura che è esattamente questo, ma insieme a tante altre persone in tutto il mondo, anche prima di me, hanno portato avanti questo discorso. L'architetto si deve rendere conto che è uno degli agenti fondamentali di trasformazione della crosta terrestre. Se ne era accorto Morris all'inizio dell'architettura moderna, un secolo e mezzo fa, però questa consapevolezza ce la siamo dimenticata. Adesso bisogna riscoprirla ed essere militanti, diciamo, all'interno di questa battaglia per la salvezza dell'umanità. Ecco, invece facendo un passo indietro, professore, pensando agli apparati scenici del barocco, l'idea di percorso, ritiene che questi apparati esistano ancora oggi nelle nostre città? Sicuramente, c'è una nuova attualità del barocco, perché il barocco è essenzialmente un'arte sociale, non si ripropone di rappresentare equilibri cosmici come nel Rinascimento, cerca proprio di colloquiare. È un'architettura come il linguaggio che dialoga con le persone e cerca di produrre nella città lo spettacolo, non soltanto quello, diciamo, fine a se stesso, ma lo spettacolo delle persone che vivono nella città. Le grandi piazze barocche sono essenzialmente questo, la città che, come la scena di un teatro, ospita la vita sociale e la fa diventare un momento di autocontemplazione. Parliamo di vita sociale, ma architetto Presta, se pensassimo invece ai non luoghi, che è una terminologia che adesso si usa molto per descrivere cosa in realtà, li potremmo riempire di qualcosa di artistico, questi non luoghi? Ma innanzitutto cosa sono? Un luogo è un termine che è stato forgiato da Marco G, un sociologo francese, per definire degli spazi, appunto, prima parlavamo di globalizzazione, che in realtà non si qualificano per identità di luogo, ma possono essere ovunque. E peraltro sono spazi dove avviene un certo movimento di vita senza che però ci sia stanzialità, che ci sia effettivamente una sorta di orgoglio di residenza, insomma, come se fossero abitati da nessuno, ma vengono percorsi da molti. Spesso sono proprio questi non luoghi che ospitano degli oggetti d'arte intesi appunto nel senso tradizionale, cioè sculture o pitture o cose di questo tipo. Quindi diventano luoghi perché l'arte restituisce un voto ad un luogo? L'arte in questo, siccome poi l'arte rifiuta questo suo ruolo di funzionalità a qualcosa, quando si accorge poi che viene chiamata per qualificare uno spazio che non ne ha, si ribella, si vendica. Abbiamo avuto delle, come dire, delle esperimenti di arte che adesso definire brutto è un po' così, tagliare corto. Però, diciamo, gli artisti in qualche modo, non so, l'esempio di Cattelan può essere indicativo. Artisti che hanno voluto, come dire, opporsi a questo atteggiamento di imbellettamento di un luogo e quindi ancora di più sono intervenuti creando una denuncia sociale, mentre in questo stesso periodo sono... è l'arte che nasce quasi dalla base, quella che si manifesta in questi spazi. Esempio abbiamo questo esempio dei murali che ormai da anni compaiono nelle città, i vagoni delle metropolitane. Quindi questo è proprio questo bisogno di esternare, un po' come i graffiti di cui parlava prima il professor Lorusso. Sono questa esigenza comunque di fare dei segni. Ecco, questo, diciamo, è in un certo senso più qualificante, laddove i materiali non ci aiutano perché sono globalizzati, laddove tutto quanto si appiattisce, poi c'è un intervento quasi dalla base che tende a esprimere se stesso, a manifestare una presenza dei cittadini, diciamo, in senso l'arte. Dottor Lorusso, secondo lei l'arte, quindi forme d'arte come i graffiti, come i murales, potrebbero in qualche modo ridare un'identità a luoghi magari creati soltanto per motivi speculativi, magari luoghi un po' poveri di ricchezza, se vogliamo. Ma ci sono tanti esempi, anche qui a Roma, per esempio a San Lorenzo, ce ne sono alcuni bellissimi i writers che sono realizzati con tante di quei colori, tanta di quella conoscenza proprio del segno grafico. Ma io oltre a questo volevo poco a poco porre l'attenzione sulla domanda di prima, l'interazione tra arte e architettura. Mi interessa particolarmente perché si stanno evolvendo tante di quelle cose anche nella didattica dell'Accademia di Belle Arte. C'è una sorta di ricongiungimento tra arte e architettura, nel senso che anche dal punto di vista proprio di leggi dello Stato, adesso finalmente abbiamo una riforma che ci pone allo stesso livello universitario. Una volta l'architettura era un corso dell'Accademia di Belle Arte, poi si è distaccato. Quindi è possibile, naturalmente, nelle dovute differenze che avvengano una sorta di ricongiungimento, se non altro, sul piano della didattica. Ma a parte questo, se si volesse in qualche modo creare maggiore interazione tra le due manifestazioni artistiche, io lo devo dire, esiste una legge del 2%, che è vecchia da 1948, è stata ripresa più volte, però viene applicata così poco. Pare che il Comune di Roma in questi anni abbia promosso parecchie situazioni anche sull'assessuale urbanistica uscente adesso. Forse un messaggio che bisognerebbe lanciare anche agli architetti in questo caso, provvedere a stimolare i vari assessori dell'urbanistica, i vari amministratori che vorrebbero andare ad applicarla un po' di più perché ce ne sarebbe proprio bisogno. Pensate che ogni volta che si progetta e si costruisce una caserma, una scuola, un ospedale, è il 2% del budget complessivo andrebbe per legge, come dire, predisposto per la realizzazione di un'opera d'arte. Questo in tutta Italia, non solo a Roma. Voi pensate quante possibilità ci sarebbero affinché ci sia una maggiore interazione. Poi tutto è arte, alla fine tutto è uno, la differenza tra il pittore e lo scultore, sì è vero che ci sono... ma queste differenze avvengono più che altro non nel momento in cui si progetta qualcosa di sociale, avvengono nel proprio studio, quando uno opera per la cosiddetta arte pura, per trovare delle soluzioni introspettive. Nel momento stesso in cui ci si pone di fronte a un'esigenza, diciamo, sociale, come quella di costruire una scultura che va in una piazza, cambia completamente l'atteggiamento perché uno sa che sta comunicando con tanti altri. Quindi non è la stessa cosa di quanto comunica solo per se stesso. E penso che, diciamo, anche l'artista tradizionale, ci sono tanti esempi, penso che si punca anche il problema dall'arte come necessità di comunicare socialmente. Quindi, ecco, mi auguro che venga recepita questa legge che esiste da tanti anni. Ma secondo lei, architetto presta, perché questa legge non è molto considerata? Almeno così dice il dottor Lorusso. Beh, sì, effettivamente è un motivo per cui l'arte è sempre stata vista come una cosa altra, sostanzialmente. Poi opere d'arte, per un certo periodo, nell'edilizia sono state ritenute alcuni punti particolari delle città, i ponti, ad esempio, sono ancora, come dire, nei capitolati sono chiamate opere d'arte. Certo, non si fa riferimento a quello, ma in alcuni casi, diciamo, le amministrazioni pubbliche hanno voluto interpretarle in quel modo. Certo, invece, che, come dice il professor Lorusso, questa esigenza di arte può veramente essere, come dire, in qualche modo soddisfatta con questo, con questa, diciamo, con queste economie che vengono dal 2% delle realizzazioni pubbliche. E noi ce lo auguriamo, ma Presidente Rizzo, è vero, secondo lei, che non esistono più i veri artigiani. Diciamo che la scuola praticamente si è un po' assottigliata, il maestro è sempre in numero inferiore a quello che era gli anni precedenti, i discepoli, i famosi discepoli sono pressoché spariti. Oggi, dopo aver studiato un pochino, dopo aver avuto almeno una base decente, si pensa soltanto, è anche importante quello, al reddito, praticamente, perché si deve necessariamente, diciamo, vivere e non si pensa più, praticamente, ad acquisire quella, diciamo, quella maestria, diciamo così. Lei pensi quanto deve imparare un discepolo di, non so, di falegname, un'opera ciclopica, una vita, diciamo, di acquisizione, diciamo, di informazioni, di arte. Diciamo che le macchine sicuramente hanno aiutato molto, l'industrializzazione ha aiutato molto, ha tolto quel sapore, diciamo, di artistico, ma ha superito sicuramente la macchina a quello che era il sapere, diciamo, dell'artigiano. Ce ne sono, ce ne sono pochi, forse sarà un problema per le nuove generazioni, sì, sicuramente sì. Oggi ancora possiamo avvalerci, diciamo, di artigiani molto validi. Pochi, ma ce ne sono ancora. Pensate, non so, a chi fa oggi, basta pensare, un'esperienza personale, una cappella in una chiesa, praticamente, trovare il maestro che fa ancora le volte, che fa praticamente le cupole, praticamente dove riesce a dare, che ne so, un raggio di curvatura diverso dall'interno della stella alla cupola, e lo fa sul banchetto e poi lo mette in opera, con approssimazioni vicine al micron, praticamente, cose, praticamente, che sono mai prerogative, diciamo, di pochissime maestranze. Ecco, lì, parlando con i maestri, purtroppo ho dovuto constatare che lavorano gli anziani, fanno sia il lavoro manuale che il lavoro praticamente artistico e non hanno la base su cui trasferire, praticamente, il loro sapere. Quindi, stanno morendo, certi mestieri stanno morendo, saranno sicuramente rimpiazzati da nuove tecnologie o da altre cose, che sicuramente non avranno lo stesso sapore una volta realizzati le opere. Professor Portoghesi, proprio in merito a quello che stava dicendo adesso il Presidente Rizzo, lei che ha sempre a che fare con i giovani, perché comunque riesce a insegnare loro, insomma, a comunicare con loro ogni giorno, secondo lei è possibile comunicare all'esterno, quindi anche a queste nuove leve, chiamiamole così, che devono ancora esistere queste maestranze perché non si perdano anche le nostre tradizioni per il futuro. Io devo dire che tra i giovani c'è una grande sensibilità, un grande interesse per il lavoro artigiano e perfino dei laureati in architettura si dedicano con passione al lavoro artigianale. Io, per esempio, conosco un architetto che fa delle vetrate bellissime, con tutte le tecniche più moderne, che non si sente diminuita dal fatto di non fare la progettista, ma invece di lavorare concretamente in senso artigianale. L'artigiano ha cambiato sicuramente funzione, ma anche però oggi un reddito diverso, delle possibilità diverse, quindi non è un mestiere destinato a perire, secondo me, è un mestiere destinato a cambiare radicalmente. Diventano i famosi prodotti di nicchia che però, come tutti sappiamo, siamo disposti a pagare anche profumatamente. D'altra parte noi abbiamo il restauro, che è una fondamentale esigenza di un paese come l'Italia, pieno di monumenti storici di grandissimo valore, che alimentano tra l'altro la primaria industria del turismo, quindi se perdessimo per caso gli artigiani non saremmo più in grado di restaurare gli edifici che ci hanno lasciato i nostri padri, quindi è una ricchezza da conservare gelosamente, da incrementare, facendo capire che non solo il lavoro teorico, ma anche il lavoro pratico ha una sua nobiltà, anzi in un certo senso può averne di maggiore. Io devo dire che trovo nei giovani una piena rispondenza. Perché per quanto utile la tecnologia non può sostituirsi a tutto comunque? No, la tecnologia tra l'altro deve essere governata dall'uomo, perché ormai ha assunto una logica così imperativa, per cui noi i bisogni dell'uomo sono creati dalla tecnologia artificialmente, bisogna quindi che ci sia un conflitto tra l'uomo e la tecnologia, inevitabile, non possiamo farne a meno della tecnologia, però dobbiamo utilizzarla per quel tanto che non ci rende schiavi, altrimenti è un'utilizzazione dell'uomo da parte della tecnologia e non della tecnologia da parte dell'uomo. Certo, ci manipolerebbe insomma e noi dobbiamo cercare di impedire che questo avvenga, ci sembra giusto. È molto difficile, ma ci si può riuscire, ci riusciremo sicuramente. E scopriremo come controllare la tecnologia, lo faremo subito dopo una breve pausa pubblicitaria, perciò se siete curiosi restate con noi. Di nuovo in studio con Work in Progress, professor Portoghesi. Ma secondo lei le opere d'arte che ci circondano nelle nostre città, quelle che in fondo sono storiche e quindi legate alla nostra storia e raccontano chi eravamo, in parallelo poi invece con le strutture che raccontano chi siamo oggi, secondo lei possono convivere nello stesso modo ed essere comunque assimilate e comprese dai cittadini? Oppure in realtà vanno in collisione? Ci sono esempi eccellenti di armonia tra l'antico e il nuovo e ci sono anche invece esempi di contrasto fastidioso, quindi dipende molto dalla qualità e dalla sensibilità degli artisti. In ogni caso, se la collocazione stabile di un'opera moderna in un luogo storico può destare a delle perplessità, nessuna perplessità destra invece che un luogo storico, una piazza famosa ospiti per qualche giorno un'opera d'arte moderna, perché in quel caso anche il contrasto è accettabile anche se supera in un certo senso quella richiesta di armonia che è fondamentale soprattutto per la durata delle immagini. Quindi direi che non c'è ragione di vietare l'ingresso all'arte moderna nella città antica, deve essere però un ingresso controllato. Ecco, lei che cosa ne pensa Architetto Presta? Secondo lei questo parallelo viene vissuto dai cittadini, viene assorbito oggi o c'è ancora un po' un non capirlo? La comprensione credo che si muova su due livelli, uno è quello di non capire perché queste associazioni, l'altra è effettivamente non capire l'oggetto d'arte, nel senso che bisogna un po' fare dei distinguo su questa cosa. Per il resto io penso che la città è comunque moderna, nel senso che esiste una città costruita in antico, nei tempi passati e una città costruita in tempi più recenti, ma di fatto la città, l'ambiente in cui ci si muove, il traffico veicolare, le persone camminano con i cellulari, è un ambiente moderno e quindi in un certo senso è chiaro che se deve ospitare delle opere d'arte realizzate adesso, naturalmente sono delle opere d'arte moderna. Concordo sul fatto che poi esistono dei rapporti di tempo in queste cose, nel senso che stabilire per un tempo molto lungo la presenza di un'opera d'arte moderna in uno spazio storico è una cosa che va calibrata con attenzione, al di là invece di un'esposizione temporanea che invece può usufruire di una scenografia, insomma questo penso che sia... Ma secondo lei oggi scienza e ricerca stanno facendo passi da gigante, quindi si va avanti molto rapidamente, anche un po' per adeguarsi alle esigenze di mercato, ma i cittadini che poi occupano le nostre città e quindi vivono immersi in questa scienza, in questa ricerca, riescono ad assorbirla con la stessa rapidità oppure restano un po' indietro e fanno fatica ad accettare tutta questa evoluzione? Beh, fatica, in realtà o ne usufruiscono o ne sono un po' schiacciati, come diceva poco fa Rizzo, nel senso noi abbiamo bisogno di tecnologia perché c'è continuamente bisogno di fare delle cose in tempi più ridotti oppure con minore sforzo fisico, però è pure vero che questo problema ci si sta un po' rivoltando contro, come diceva il professor Portoghesi, l'architetto ha anche bisogno di creare uno spazio che non... o degli edifici che non consumino così tanta energia e che quindi... ritorniamo un po' a quello che dicevamo prima sull'architettura pratica, l'architettura non ci deve difendere dalle belve ma forse ci deve difendere da noi stessi, nel senso che qualche tempo fa non avevamo bisogno dei telefonini e non ci pensava nessuno, la tecnologia un po' ti crea il bisogno e poi tu devi trovare il modo di soddisfarlo, un po' per stato simbol, un po' perché effettivamente altrimenti non riesci a stare al passo con i tempi, insomma nella sostanza penso che sia questo, la stessa cosa può essere riferita a questa architettura moderna che fa un uso sfrenato di facciate di vetro e cose di questo tipo quando poi gli ambiti territoriali invece non le richiedono, assolutamente, insomma noi abbiamo in area mediterranea temperature per cui non serve di avere facciate di vetro bloccate e quindi insomma certe architetture sembrano un po' decontestualizzate, sembra che noi ne vogliamo far uso proprio per queste esigenze di tecnologia dove in effetti forse se ne potrebbe fare a meno. Dottor Lurusso, secondo lei quindi è vero che l'idea, perché se vogliamo l'arte così come anche l'architettura insomma, sono un impulso che nasce da un'idea, ma quest'idea oggi quanto è possibile metterla in pratica e quanto invece è influenzata dalle esigenze di mercato a suo avviso? Ma sicuramente ci sono tante influenze reciproche da parte del mercato verso il mondo dell'arte ma anche viceversa, si possono fare tanti esempi. Poi noi continuiamo a parlare di artisti e architetti come se fossero due. No, abbiamo già detto che c'è una forte relazione tra le due cose. Una forte relazione comunque perché lo sono stato storicamente insieme, basta pensare ai grandi artisti del Rinascimento, Leonardo, Michelangelo stesso e quanti altri, ma anche recentemente voglio dire oggi l'artista in senso tradizionale, cioè il pittore, lo scultore, diciamo che rappresentano una nicchia molto piccola del mondo delle arti figurative, delle arti visive. Cioè sono tanti artisti che operano nel mondo del fashion, del design, del design d'ambiente eccetera, io non so se chiamarle più architetti o più artisti. Voglio dire che anche dal punto di vista, cioè anche da noi si è creato diciamo questa querella, chi è più artista, il grafico pubblicitario o il disegnatore del nudo, tanto per fare un esempio. Evidentemente è un po' lo stesso parallelo che viene tra l'architetto e l'artista tradizionale. Uno pensa a realizzare dei progetti appunto che hanno una carattura più di tipo sociale, sono un po' i contenitori dell'essere umano. L'artista, quello cosiddetto più puro, più tradizionale per certi aspetti forse pensa più all'aspetto spirituale, all'animo umano e più introspettivo. Presidente Rizzo, questo connubio fra progettista, impresa, committente fino ad arrivare naturalmente al fornitore, secondo lei si è instaurato oppure ci sono ancora dei fraintendimenti su questi passaggi e questo anello della catena magari viene meno, insomma non si riesce a mantenere la salda? Nel rispetto dei ruoli c'è, esiste. Molte volte c'è lo sconfinamento, lo sconfinamento diciamo di competenze, lo sconfinamento diciamo di ruoli e questo è necessario praticamente poi avere delle mediazioni. Noi abbiamo dei consulenti del reto che sono persone di provata l'esperienza, si trovano molte volte di fronte al cliente, accompagnato dall'architetto e ognuno di queste tre figure se vogliamo hanno idee diverse sullo stesso come conciliare tutto questo. Io dico sempre di una cosa da fare è quella di sapere ascoltare prima di poter parlare, vedere chi praticamente ha potere decisionale e praticamente far leva o far valere insomma qualche variante sul progetto, sulla scelta di materiali con morbidezza sicuramente. Comunque è un brutto lavorare molte volte perché l'architetto è il nostro cliente e il cliente portato dall'architetto è una persona che molte volte farà quello di lavoro nella vita e non ne farà null'altro, metterà sicuramente in gioco i propri risparmi, si sarà anche forse indebitato e molte volte si vede che l'architetto vuol prevalere praticamente nella scelta o nell'indirizzo dei materiali anche andando oltre i gusti praticamente del committente. Io dico che ci vuole sempre un giusto equilibrio, però il committente anche si deve far seguire in qualche modo. Lì dovremmo subentrare noi, dovremmo essere dei mediatori. Qualche volta ci riusciamo, qualche volta purtroppo no, qui dipende molto poi dall'intelligenza della singola persona, del singolo addetto, del singolo consulente. Comunque è molto difficile. Quello che io mi auspico nel prossimo futuro è di vedere sempre più architetti a fianco diciamo di clienti. Purtroppo per certe figure che professionalmente non sono all'altezza diciamo di entrare in sintonia se vogliamo con la committenza, con il cliente, si verifica che a metà strada sparisce l'architetto. Questo mi dispiace molto. Che fine fa l'architetto? Viene praticamente sollevato dall'incarico molto spesso e viene praticamente poi lasciato il lavoro se vogliamo alle mani del consulente interno nostro e del cliente. Qualche volta danno diciamo del lavoro anche ultimo se vogliamo. Quindi dovremmo crescere un po' tutti diciamo in questo rapporto a tre. Noi sicuramente in quanto consulenti, molto anche l'architetto come noi, forse l'unico che possiamo e che dovremmo scusare praticamente e giustificare e accettare è la committenza. Questo credo che sia praticamente l'unica cosa insomma da auspiegare nel prossimo futuro. Il professor Portoghesi sorrideva prima quando sentiva il presidente Rizzo raccontare di questo rapporto fra l'architetto e il committente? Come mai sorrideva, professore? Sorridevo perché effettivamente gli architetti pretendono di convincere i loro clienti a vivere in un certo modo. Io non credo che sia questo il compito dell'architetto. Il compito dell'architetto dovrebbe essere quello di interpretare il modo di vivere del suo cliente e se questo modo di vivere non lo condivide, lo considera sbagliato, rifiutare l'incarico. Ma è sempre appassionante cercare di capire cosa vuole il cliente. Bisogna essere anche un po' psicologi? Bisogna essere psicologi, bisogna non assecondarlo passivamente, assecondarlo attivamente. Certo le signore si presentano con mazzi di fogli presi da riviste, magari le più contrastanti tra loro e vorrebbero un cocktail di tutto questo. Però se uno cerca di capire veramente che cosa desiderano, può trovare una soluzione che è accettabile anche dalla sua professionalità. Poi se veramente si tratta di due mondi totalmente diversi e opposti, allora bisogna rinunciare. La modestia secondo me, non nel senso qualitativo, ma nel senso dell'atteggiamento morale, è una qualità per un architetto. Direi l'umiltà, una volta c'era molta umiltà negli architetti. Se noi vediamo la storia, mi sto occupando in questo momento di Palladio, di Vignola, insomma questi signori, certo avevano dei committenti di grandi qualità intellettuali, però avevano l'umiltà di interpretare nella loro diversità questi clienti, non volevano imporre il loro punto di vista. Per esempio Palladio ha costruito decine di ville, tutte profondamente diverse l'una dall'altra. Se andiamo a vedere perché, vediamo che dentro c'è il programma del cliente, del committente, che vuole un certo tipo di qualità architettonica, ma soprattutto vuole un certo tipo di organizzazione delle funzioni, quindi vuole vivere in un determinato modo. Però sempre lasciando una propria impronta, comunque una personalità, diciamo… Sì, ma questo è evidente, insomma l'impronta, se c'è il modo di pensare l'impronta diventa fortissima e indelebile nonostante l'adeguamento alle volontà del cliente. A lei Presidente è mai capitato che siano arrivate da voi in sede persone con tante foto di giornale, tutte dissonanti tra loro che volevano un po' questo e un po' quello, un purpurì di cose, tutte insieme? Beh sicuramente sì, anzi molto spesso. Lei consideri praticamente che il cliente normale nella media praticamente 2,6 volte nella vita si avvicina praticamente a una ristrutturazione o a una costruzione di un appartamento. Quindi quando viene, viene carico praticamente di idee, di volontà e molte volte si disattendono quelle che sono le priorità in un appartamento oppure la sua vivibilità praticamente, le sue esigenze. Anche l'architetto molte volte va praticamente e segue il cliente nelle sue praticamente scelte, cerca di ingentilirle, però poi vedo che dialogano poco, nel senso non vedono quanti figli hanno, quante figli vorranno avere, che tipo di vita, che tipo di vita sociale fanno, che tipo di... Questo tipo di domanda è rara, è molto rara praticamente che viene fatta dall'architetto al cliente. Invece è importante anche per l'ottimizzazione degli spazi, quindi per un vissuto migliore per tutti. Ma per la fruibilità degli spazi che a volte sono anche, perché si fanno anche opere diciamo di architettura, su spazi abbastanza ridotti, perciò tutto è architettura e tutto viene fatto. Quindi ancora di più lì bisogna stare attenti, quando gli spazi sono anche ristretti. Questo è... Diciamo che è raro, molte volte l'architetto prende l'incarico praticamente, ma non per sparare sugli architetti, perché noi viviamo di architetti e di rapporti. Molte volte l'architetto prende l'incarico e fa suo quel lavoro come se fosse effettivamente diciamo una cosa, diciamo, prioritaria per lui e non per il cliente. Perciò si sente coinvolto e lo segui molte volte disattendendo certe, se vogliamo, regole, che sono quelle diciamo di dialogare molto, molto con il cliente. Una battuta finale per tutti, direttore Lorusso. Secondo lei, se nell'arte è stato già inventato molto, non voglio dire tutto, che cos'altro c'è ancora da scoprire e da inventare nel futuro? Intanto far di essere per un po', perché è necessario sentire anche il committente un po' artista, quando sceglie di realizzare i propri progetti, forse diciamo... Anche perché i committenti alla fine sono i cittadini? Sono i protagonisti, i veri protagonisti. Ma sono un po' artisti secondo lei? L'arte c'è in ognuno di noi o è un luogo comune questa frase? Potenzialmente potremmo essere tutti artisti, è la visione in cui siamo tutti, tutti abbiamo la necessità di comunicare con gli altri. Presidente Rizzo, una battuta finale, una provocazione. Se la tecnologia e la ricerca dovessero coniare materiali indistruttibili, che nel tempo non avranno mai nessun problema, quindi potrebbero durare in eterno, che fareste, chiudereste? Potremmo cambiare lavoro? No, tiferemo per il cambiamento soltanto estetico magari e non nella longevità del prodotto, insomma. Tante cose si cambiano perché si vuole cambiare. Quante ristrutturazioni vengono fatte perché si è stanchi di avere quel pavimento o quel rivestimento o quella porta o quell'infisso, passano tutti ancora sani, funzionanti e assolvono alla grande la loro funzione. Anche perché questo già un po' avviene, ci sono già materiali indistruttivi. Noi confidiamo sempre nel cambiamento, non nella longevità, diciamo, del prodotto. Anche oggi, insomma, si vendono prodotti che sono praticamente indistruttibili per come sono stati concepiti e fabbricati. Però poi c'è la moda, c'è la voglia di cambiare, c'è il gusto, c'è un passaggio sempre di proprietà, diciamo, di un appartamento, di una villa e che praticamente... Cambia la persona, cambia la personalità. Basta cambiare la disposizione praticamente delle stanze che tutto quello che è stato fatto magari deve saltare e deve essere rifatto. Purtroppo ognuno vuole la casa potendo solo permettere personalizzata secondo le proprie esigenze. E' proprio così perché Benjamin diceva che la moda cambia perché la morte girandosi non la riconosca. Vuol dire che noi semplicemente guardando le cose in un certo senso un po' le uccidiamo e quindi dopo un certo... per un certo periodo di tempo che siamo a contatto con una cosa per noi diventa quasi inerte, morta. Forse è per questo che poi l'opera d'arte invece ha questa capacità di sopravvivere. E quindi siamo noi stessi che desideriamo cambiare. Quindi il materiale indistruttibile, se potesse esistere in assurdo, non sarebbe come dire... Non sarebbe alcun problema. Non sarebbe alcun problema al cambiamento. Professor Portoghesi, quindi finché non si esauriranno le idee e la voglia anche di cambiamento non si esaurirà mai né l'arte né l'architettura né la voglia di progettare? Sì, certamente. Però io non sono convinto che tutti siamo artisti, lo siamo potenzialmente. Fondamentalmente l'opera d'arte che ciascuno degli uomini realizza è la sua vita. Perché nella vita si esprime, esprime una personalità e quindi questo è essenzialmente ciò che poi fa l'artista. Però la differenza è che l'artista poi produce un oggetto più o meno materiale in cui si riflette su questo aspetto della creatività e quindi c'è uno stacco che va sempre diminuendo ma secondo me non cesserà mai di esserci. Per il resto, certo, finché ci sono idee, finché l'uomo è civile, cioè sente il bisogno di lavorare per migliorare la propria vita, l'arte è indispensabile. L'arte è necessaria perché è lo strumento fondamentale di questo miglioramento della vita. Un grande poeta, Elderlin, diceva che l'uomo abita sulla terra ma poeticamente, cioè ha bisogno di trovare in rapporto alla terra una giustificazione del suo essere, quindi deve andare al di là di quello che è il programma di sopravvivenza quotidiano. Questo in fondo è la ragione dell'arte, cioè il primo artista, quel cacciatore che ha plasmato la forma della sua vittima, era evidentemente uno dei cacciatori che rifletteva su ciò che aveva fatto, mentre gli altri probabilmente si occupavano soltanto di uccidere la preda. Ecco, è questo riflettere, questo tornare indietro, questo nutrirsi della memoria. Non dimentichiamo, Platone dice che le muse erano tutte figlie di Bnemosin, che è appunto la dea della memoria. Bene, noi con questo consiglio anche per tutti il pubblico che ci segue da casa, di ricordare sempre e quindi di tenere tutto nella propria memoria, perché è importantissima. Salutiamo i nostri ospiti e ringraziamoli di essere stati con noi, il presidente ceramica Pianuova, il signor Mario Rizzo, grazie di essere intervenuto. Naturalmente il professor Paolo Portoghesi, grazie di essere stato con noi. L'architetto Claudio Presta, grazie di essere intervenuto. E il direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Roma, Gerardo Lorusso, grazie di essere intervenuto. Grazie a voi. E come sempre a tutti quanti voi, due appuntamento con Work in Progress. Alla prossima settimana, non mancate, arrivederci. Grazie a tutti. Un programma offerto da Ceramiche Pianuova.